Allora, questo è un video un po' diverso dagli altri perché in questo video volevo farvi vedere come si fa sapere il sesso dei pappagalli Per sapere il sesso si capisce dal becco Se è tutto blu, è molto blu, è un maschio Se invece è poco blu, è una femmina Partiamo nel presupposto Dunque, se si fa prendere Dunque, allora, quello giallo, se vedete bene è un maschio Invece quello verde, se si vede bene Ecco, si vede Si vede Non è che si veda tanto bene, ma Ecco E' un E' una femmina Dunque E niente, ci vediamo Alla prossima No E' una femmina Quello che devono mangiare Dunque, allora Dunque Quello che devono mangiare i pappagalli Devono mangiare cicoglia e semi Mai dargli la lattuga, se no muoiono Va bene Questo era tutto E ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima